Tragedia nel tardo pomeriggio di lunedì a Bolzano, una ventenne di origine albanese annegata nelle acque del Talvera. Secondo le prime ipotesi avanzate dagli inquirenti si tratterebbe di un incidente. La ragazza pare si trovasse sulle rive del corso d'acqua con i suoi cani, due levrieri tra cui un cucciolo di sette mesi ed un terzo cane di un'altra razza di taglia più piccola. Uno dei tre animali, il cucciolo di levriero, non è stato ritrovato. Di qui l'ipotesi degli investigatori che la giovane straniera sia caduta in acqua e sia stata travolta dalla corrente per cercare di recuperare il suo amico a quattro zampe. Si è arrivati sul posto con la nostra squadra, anche con la squadra di soccorso d'acqua, c'hanno già sul posto i colleghi dei carabinieri e dei passanti che hanno visto questa persona in acqua e chiaramente subito due dei nostri soccoritori acquatici sono entrati in acqua e hanno portato fuori la persona. portato fuori la persona, poi c'era anche già sul posto il medico d'ugenza che ha visto subito che non serve più rianimare. Sull'accaduto sono in corso ulteriori accertamenti per cercare di chiarire e verificare la tendibilità di quanto ipotizzato sulla dinamica dei fatti. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!